Musica 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 Buongiorno Ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati Un piccolo nuovissimo video Questo video si tratta del video In cui noi facciamo colazione Bello eh la vita No non è vero Questo è il video challenge Spawn Frog Challenge Number one No Number two Number three Number three Ma perchè Number four No Mannaggia Zero pari Chi arriva prima a cinque dai Oh 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 Io sono scarsa Vai Marge uno Uno pari Uno pari Vediamo un po' se Marge pareggia Ma è in vantaggio di nuovo Niente da fare Niente da fare Uno pari Wow Oh Due a uno Ah per poco Giura vai Perché oggi Non gli altri piccoli Niente non vale Due pari Che vengono sempre l'ottine Quattro Quattro Tre due Per Marghe Tre pari La sfida diventa Emozionante Emozionante Poi è poco Niente da fare Tre pari Ecco Marghe Che posiziona Quattro Giulia Non ci riesce Quattro e tre Per Marghe Cinque Prima manche Terminata In favore di Marghe The winner is Marghe Allora Uno Giulia Seconda manche Vai uno Giulia Sì vai di seguito Sempre a cinque No cavolo Questa vince Giulia Uno a zero per Giulia No questa vince Valle Uno pari Uno pari Marghe mi sembra un'esperta Di catapulta a cucchiaio Uno pari Perchè Niente da fare Niente Niente Palo Nulla Prendere il soffo Perchè io 2 a 1 per Marghe Niente da fare Vai Giulia 2 a 1 ce la puoi fare Niente Niente E' uscito non vale Niente Niente No e ora Quanto? Due pari Due pari Io 3 a 2 per Giulia 3 a 2 per Giulia Vantaggio di Giulia Vantaggio di Giulia Ah mi è entrato 3 pari 3 pari Giulia ha pareggiato Marghe 3 pari Niente Ah per poco Concentrati Troppo forte Marghe Troppo forte Marghe Troppo piano Giulia Ecco Marghe 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 che si prepara Prepara il lancio 4 4 4 Attenzione Attenzione Potrebbe essere il colpo decisivo 4 3 5 5 5 4 5 4 Allora se lei Perché c'è uno in più Se lei pareggia Riesce a fare centro Continuate Altrimenti ha vinto Marghe 5 pari Ok Allora Chi ne fa due di seguito Chi ne fa due di seguito Dai E uno E uno Pari Altri ancora Ancora due Fuori Niente Due di seguito Si ha zero Da capo Niente Cavolo Uno Giulia No Guarda Guarda Ma non ti fa un altro Che l'ha pareggiata Cavolo Marghe Vince Giulia A questo A questo punto Una mancia stasuno Terminiamo Qui diciamo Questa sfida Provate a fare Col doppio cucchiaio Col doppio cucchiaio Ragazzi Ora Proveremo Col doppio cucchiaio Chi lo fa con il doppio cucchiaio vince del tutto Però Non credo Io non credo Non è possibile Possibile Mi dico Oh Fatelo insieme Aspettate No Aspettate Vai Giulia Li posiziona Vediamo un po' come le posizioni Giulia Eccoli Oh Siete pronte Solo un lancio E poi a 2000 like Vi sfido io Vi distrigerò niente l'ultimo vai l'ultimo no uno niente da fare vai l'ultimo vai Giulia mettile dritte per poco niente da fare salutiamo vi faccio vedere io come si fa vi faccio vedere io spostatevi spostatevi che vi faccio vedere io come si fa no babbo non ora spostatevi la prossima volta ragazzi se il video raggiunge 2000 like 2000 like si farà una partita contro il mio papà molto bella e quindi fate arrivare questo video a 2000 like faremo la partita contro il babbo vi distruggerò tripla sfida però eh tripla sfida faremo vabbè quindi 3 2 1 2 quindi ragazzi questo è il video spero vi sia piaciuto ah vi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii del film marghe giulia kawaii su facebook marghe giulia kawaii su musica il caccio marghe giulia kawaii e se volete le maglie le cover le tasche i cuscini di tantissimi colori e tantissime altre cose andate su www.marghegiuliakawaii.it ricordatevi che io marghe io giulia insieme a voi formiamo la magic family cioè amore puro se il video vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto shhh iscrivetevi al canale